Cambiamo argomento, è stato fissato al 10 novembre l'inizio del processo in corte d'assise dell'omicidio avvenuto il 12 febbraio scorso a Casoli di Cesira Bambina Damiani, 88 anni. A strangolarla il figlio convivente Francesco Rotunno, 65 anni, arrestato e ancora in carcere a Lanciano con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo le risultanze investigative e medico-legali l'anziana è morta per una stretta al collo con un laccio mai trovato. Dopo l'omicidio l'uomo è stato ritrovato per strada con i polsi tagliati e in stato di ipotermia, tanto da essere ricoverato alla psichiatria dell'ospedale a Lanciano prima di finire in carcere tre giorni dopo.